Neanche il coronavirus ferma la camorra. È rimasto vittima di un agguato avvenuto la scorsa notte nel comune vesuviano di Bosco Reale, il pregiudicato Antonio Riviecio, 30 anni, originario di Torre del Greco. Colpito a linguine, il trentenne poi morto poco dopo il ricovero in ospedale, l'agguato è avvenuto intorno alle due della scorsa notte in via Settembrini, all'interno del piano Napoli di Bosco Reale. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'agguato e individuare i killer che sembra abbiano agito a volto coperto. Dalle prime risultanze effettuate dai carabinieri, sembra che il comando si sia avvicinato al trentenne per sparargli alle gambe, probabile quindi che la natura dell'agguato fosse solo intimidatoria. Uno dei colpi però ha centrato l'arteria femorale, provocando l'emoragia che ha portato Riviecio alla morte subito dopo il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Bosco Reale. Visti i precedenti della vittima, è probabile che l'omicidio sia riconducibile al controllo delle piazze di spaccio.